Io e mio marito dividiamo, signor. Non c'è un piatto, signor. Grazie. Grazie, grazie. Mi c'è la moscola? Sì. Buona. Oh, mia. Sì, qui, qui. Grazie. Mi ha appetito? No, ma è, come è? Grazie. Oggi ha metto già l'un cane? Mamma mia. Un cane, un cane. Ma ci ha detto un po' di raffaello. Grazie.